Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video Oggi siamo su The Forgotten Project of Damage Che nome ragazzi Oggi siamo su un di un gioco horror Che ovviamente non è di quest'anno ma è di un sacco di tempo Questo me lo dice noi comando Ma un menu, un menu, un menu decente Si può schippare tutto questo? Si può schippare tutto questo? Ma lì se la sembrava strana e tu... Così, i rumori si perdono bene Lei siamo in questo studio, in questo... Non ho letto manche comande ragazzi Non è felato, non è felato, dove sta? Questo è... come... come ci troviamo un po' In questa parte? In questa parte? In questa parte? In questa parte? Si capisce se è prato? Oh mio Dio... Facciamo... Che... Brillo di tanto? Cioè le texture sono state fatte da unmente male Addirittura da non... Addirittura da non... Addirittura da non... Lasciamo... Ok, vedo la luce La luce del signore Ci salverà Ci salverà Ah... Scusate ragazzi per il ragazzo Ma purtroppo io non ho capito Dio... Purtroppo le persone esistono Anzi sì 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 Esiste anche la... Eh... Un'altra luce del signore Ah tu vedo un'altra luce del signore In questo caso... Veramente non c'è allora ragazzi continui dritto un'altra luce ragazzi ok ragazzi ufficiale come sempre ci siamo persi il massimo ragazzi per essere la strada giusta e qua sono andato agli altri e insomma GPS non c'è uno cavallo ah senza GPS senza GPS ok, andiamo qua accendere la luce qua ecco non solo qua ma anche qui anche se Giorgio no possiamo anche spegnerla ah eh opposto non è che mica possiamo uscire ah possiamo uscire ma di solito quando uno ti fa entrare dopo non ti fa più uscire ok secondo che dobbiamo fuggire da questo posto no, la porta è chiusa ma prima mi hai fatto entrare mi hai fatto entrare? ehm la caffetteria mi prenderei volentieri il caffè però non me la posso prendere perchè infatti questa è una idea io che cazzo non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace probabilmente le potrebbe sentire non manca a mettere qualcuno perchè di sicuro non è che ho troppo c'è qualcuno che ha un peccato che ci può prendersi un caffè oh ragazzi ho trovato lo scopo che è per me ok non mi piace ma non mi piace ma non mi piace io non ho parole ah siamo nell'acqua adesso c'è l'acqua ragazzi perdonate gli uniti della gravida veramente ok andiamo qua mi sei puntato per l'acqua si e vai girare il caffè ah ho fissato la temperatura dell'acqua la montacci tua allora ragazzi lo sapevo che c'era qualcuno che non deve condurre via passati via 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 qua ah ah rompi i coglioni ragazzi lo dicevo che c'era passati trova sei sei oggetti ah alzati ma scusate ma scusate ma non riesco a capire ma ragazzi è un brutto presentimento e' un brutto presentimento mc ma è un brutto presentimento e' un brutto presentimento ma sei oggi ragazzi sei sei lo sapevo lo sapevo che cos'è e fammi leggere io sono legge se non mi dai l'opportunità non posso lasciare ancora devi trovare ancora qualcosa che hai bisogno non so magari una chiave magari la tua testaccia di merda che caccia di ma dai ma tu mi prendi in giro mi dovi prendere mai il culo ma che cazzo te lo trovate che cazzo la chiave non me la metti la chiave caccia tua ma prima non c'è ma prendi questa mia chiave e andiamocene via anzi per forse un mese io lo dicevo che c'è la chiave io non uscirei ragazzi 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 ho paura che ci vuole ragazzi ragazzi hanno paura ehm se è normale apri paura ehm 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 a momento qua colpa continuo pezzo merda cazzo voi adesso da me via ehi ah ah dove no 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 non ci siamo e non ci siamo e non ci siamo che non ci siamo Perché aveva un po' di più? Questa è un po' di più? Dove aveva un po' di più? E non ci siamo! E non ci siamo! Beh, non ci siamo abbastanza solo qui, non ci siamo uscire a... Non ci siamo, ci siamo! E non ci siamo! Non ci siamo, ci siamo! C'è un po' di più! C'è un po' di più! Un po' di più! Noius'le! ragazzi non c'è e ansia come ci sono andato? che cazzo è? che cazzo è? non si scopera ok dunque qua devo riscrivere un codice? no anche perché non lo so ma va ma dai ma non puoi la chiave si la chiave la chiave la chiave dimmi che è questa fai cagare fai cagare io non voglio uscire dove siamo sta porta? la chiave mi prego dimmi che è la chiave dell'uscita Ti prego dimmi che... Ti prego dimmi che la chiave è l'uscita. Ti prego dimmi che la chiave è l'uscita. Aiuto. Via 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 via. Ti prego dimmi che la chiave è l'uscita. Sì. Di qua. Devo andare di qua. È vero? Devo andare di qua. Dimmi che esco da questo posto di netta. Sì. Oh mio Dio sì. La barca. Oh mio Dio ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Cazzo. Ma non puoi dire sul serio. Non puoi dire sul serio. Non pu... Ditemi dove ho sbagliato. Ditemi dove ho sbagliato. Di più becca. Ma... Ditemi dove ho sbagliato ragazzi. Cioè... Ma poi far tutto finire. Quindi muoio. Altri li riesco a completare. Però alla fine muoio. Mi spiegherà che cazzo sei? Vabbè. Ragazzi. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima. Commentate. Iscrivetevi. Ciao. Ciao.